io dicevo ma dove cazzo è? dov'è? dov'è? dove sarà? chi è? mi coglioni mi metto un pezzo veloce caso 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 buongiorno oggi si va a pescare si prova a pescare abbiamo con noi Luca Ceroni facciamo un primo piano ovviamente andiamo in un lago dove ci sono bus che hanno già andato da frega quest'anno sappiamo tutti che ovviamente sappiamo tutti che quest'anno per informare tutti che non andate a pescare a bus finchè non sapete che ci sono ancora in frega mi raccomando ci vuole rispetto per il pesce bella bella andiamo 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 bello grandissimo bellissimo bravo cazzo complimentoni preso preso bello double kill bellissimo bello sto registrando castello vittoria e noi vittoria belli facciamoci così si sta riprendendo bellissimo bello ciao lì da bacino bello dopo dopo il rilascio davo bellissimo ti giuro mai successo il primo lancio è la cannina la green line la green line preso poi bellissimo mai l'ho sentito bello 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 B plante e colo E' bello! E' una sarsa E' una sarsa E' una sarsa Bravoni Eccolo Guarda lì, sta a film Sta a film Sta a film Madonna l'altro E' un problema E' una sarsa Non ce la faccio E' una sarsa Fai proprio questo Magari il galba Marrone, marrone fa gol Il tronco lì che sorta fuori Eccolo Vai Eccolo Eccolo No no E' tronco Anche il duccio dal dada Cos'è? Questo è bella Il tronco Ah c'è anche torta Questo Questo è il coso di Bravo Grazie Prima di questo Grande Bello Bravone Bravone Luca Cironi c'è Lui Ho visto mangiare Grande Sono da allevamento per forza Piede in buca Grande Bravone Urca Regola Sapevo che c'era Eh Troppo attenzione Troppo attenzione Il carro Dove l'ho mangiata Mamma mia Mamma mia attenzione Sì Sì Ecco Bello Tutti i ciccioni che mangiano i pellet Ciao Salutiamo il grattissimo Cironi Ci abbandona Non è giusto così Non va bene Non va bene Non va bene Questa volta l'ha fatto Non va bene Ciao ragazzi Ci si vede grandissimo Ci vedresti Oio dove è il carrello? Come si fa qui? Qui è il carrello Parto prima te ne provo io Parto prima io Prima assurdo nulla Oio dove è il carrello? Adilito A carrello Si è grande lassù Vai vai Lassù Non so brava Non sa paura Com'è? 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 E' lì Fattura Vai lì Stai 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 lì Si? Yes, I'm back No 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 yes I'm back Li lascio Questo vermo Questo vermo è il pane Ma è grande Sono grande Guardi Guardi Cattura Che ho detto? Ma io Ma io Se non voglio essere quello stronzo No, che strozzo! Questo è il black, vai a regge la canna? Sì. Punta? Sì. No, no, la green line fammi dare. La green line è perfetta per il basso. Sì, bravo. Come fai il casto, come fai il casto. Ma fa? Così fai il casto. È bello, è bello. Quei grossi, ce l'hai? Anche te? No. André carriè. Questo è più grosso di tutti. Cattura. 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 Castelli. Cattura. Che bellezza. Guardate che spettacolo. Spettacolari. Cattura. Bellissimo. Buongiorno Big Fish Tour. Sì, stasera... Oggi si chiude, ora è la giornata di questa. È finita. Torniamo a casa. È stata una bella giornata. Luca Ceroni ci lascia. Come sai? Juve merda. Sono lei per chi? Per chi? Non lo so, non lo so. Forse... Forse perché di Brucia che è il finale di Champions League. Signore... Ci chiude ragazzi. Al prossimo video. Big Fish Tour. E scrive e più... Scrive e più... Oh... Certo! Ciao! Ciao!